Lungo, batte lungo, lungo in aria, colpe testa ai Bardelli, Bardelli, tiro, rete, rete, l'Akragas è passata in vantaggio, ha segnato Bardelli, ha segnato Bardelli, 23 il suo minuto del secondo tempo, esplode l'esseneto, l'Akragas è passata in vantaggio, Bardelli da 3 minuti, da 4 minuti sul terreno di gioco ha portato in vantaggio l'Akragas, è la prima rete stagionale dei giocatori biancazzurri, ed è stata segnata da Bardelli, lo vedete?